E benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Astronomia al Planetario. Oggi torno con una mia puntata, incentrata sugli ammassi di galassie, e in particolare su un problema ancora senza risposta, che ho scoperto l'anno scorso mentre studiavo per l'esame di ammassi di galassie. E che fare quindi? Privarsi di parlarne? Ovviamente no, ci mancherebbe. Siamo qua anche per imparare e per vedere quelli che sono i confini dell'astrofisica attualmente, di certo non ci perdiamo d'animo. C'è un buco, piccolo buco, nella teoria dei cluster di galassie. Qualcosa non funziona, è come se un gigantesco congelatore stia raffreddando costantemente immense quantità di gas, che però non si vedono. E qual è il segreto dietro tutto ciò? Ma, adesso che vi ho messo la pulce nell'orecchio, direi di non perdere altro tempo, che squillino le trombe, che rullino in tamburi, e io direi anche... Sigla! Astronomia al planetario, podcast dove racconti, risposte e discussioni su domande astrocosiche si incontrano. Il podcast nella nebbia modenese che parla del limpido cielo notturno. Allora, 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 calma innanzitutto. La domanda, immagino che possa sorgere spontanea. Cosa sono gli ammassi di galassie? Oh, e quindi noi adesso facciamo un bel cappello introduttivo, scheggia ossa e spacca denti che farà scappare metà di voi. Quindi, come dice il nome stesso, si tratta di raggruppamenti di galassie che si attraggono vicendevolmente l'una con l'altra, andando a creare delle vere e proprie strutture nel cosmo, le più grandi che conosciamo. Oddio, in realtà non le più grandi. Come al solito in astronomia c'è sempre qualcosa di più grande. Cioè, è sempre una gara a chi è più grosso. Ah, io ho questo buco nero gigantesco. E invece c'è poi qualcun altro che dice Ah, io invece ho questo che è ancora più grande. Sembra una gara un po' tra i pescatori che fa vedere Ah, io ho preso un luccio di 80 kg. Vabbè, comunque, ci sono anche in questo caso i super ammassi, ma capite anche voi che prima di parlare dei super rallentiamo un attimino. Parliamo da che cosa sono gli ammassi di galassie. Si parte dai gruppi insieme di qualche decina di galassie, come ad esempio il gruppo di cui noi facciamo parte, insieme ad Andromeda e anche a M31, che poi appunto insieme a tutte le altre piccole galassie satellite di queste tre. Se però guardiamo il nostro vicinato cosmico, possiamo vedere come in un volume non troppo più grande del nostro gruppo troviamo migliaia di galassie. Questi ambienti, con una struttura a palla di rugby, un ovale insomma, possono essere viste come delle enormi galassie ellittiche. la forma è più o meno la stessa. Cioè, sempre un ellissi in tre dimensioni. Solo che al posto delle stelle, al proprio interno, troviamo proprio migliaia di galassie. Uguale, no? Cioè, proprio stiamo parlando sempre di quello, insomma. Questi enormi mostri che inglobano e mangiano altre galassie e gas che arrivano dal vicinato. Praticamente vanno a mangiare, piano piano, i vicini. Li stanno assorbendo. Hanno una costituzione simile a quella delle galassie, ovvero gas, galassie, al posto delle stelle, e materia oscura. Materia oscura che qui costituisce circa il 70% di tutta la massa totale. Sì, sono oggetti un pochino strani da capire. Poi il gas, che in questi oggetti si trova quasi ed esclusivamente caldo, a temperature di decine di milioni di gradi, centinaia no, comunque decine e milioni di gradi, costituisce circa il 25% della massa, mentre le galassie sono circa il 3%. E il resto è fatto da particelle che viaggiano quasi alla velocità della luce, che si diffondono in tutto la massa. Cioè, si vedeva che avanzava un pochino, qualche per cento di particelle, allora hanno detto, vabbè, qua ci cacciamo dentro delle particelle che viaggiano alla velocità della luce, che si diffondono in tutto l'ammasso. Cioè, per fare un po' di sostanza, per riempire, per arrivare al 100%, insomma, per non lasciare quel 99.9%. La cosa interessante è andare a vedere come sono le galassie all'interno degli ammassi. Verso il centro, infatti, si trovano quasi esclusivamente galassie ellittiche, con poco gas al loro interno, e stelle molto vecchie. Mentre, alla periferia del cluster, si osservano anche galassie di tipo spirale, ricche di gas e con anche stelle giovani. Quindi la domanda sorge spontanea. Perché? È un effetto dovuto a come si forma il cluster? È un effetto dovuto a come il cluster si evolve? Insomma, qui dobbiamo considerare gli ammassi, in particolare, ma anche i gruppi di galassie, come dei veri e propri ecosistemi, costituiti da una propria atmosfera che tende a fare un effetto simile a quello che succede quando mettete la mano fuori dal finestrino, mentre siete in auto e state viaggiando. Quindi una vera e propria pressione che si oppone a voi che mettete la mano fuori, la vostra mano è trascinata verso il dietro. Una vera, appunto, pressione che però in questo caso è esercitata sulla malcapitata galassia, poveretta, che passava di lì, è stata attirata con l'inganno della gravità nell'ammasso e con questo costante soffio, con questa caduta della galassia all'interno del cluster, porta a un graduale, o anche repentino, dipende dagli effetti, svuotamento della galassia del proprio gas. Nel frattempo, però, va ad arricchire la stessa atmosfera del gas, del cluster, questo gas. Quindi si osserva un cambiamento sia della morfologia delle galassie che anche del colore. Perdendo, infatti, la capacità di fare stelle grazie al gas, perdono, di conseguenza, il colore blu dovuto alle stelle giovani, portandosi verso, invece, un colore più rosso, tipicamente delle galassie ellittiche. Questa, come una delle tante curiosità che si possono parlare delle classi, però questi oggetti così massicci sono stati scoperti e cominciati a studiare a metà del Novecento, quindi in realtà è da meno di un centinaio di anni che si conoscono. Tra i primi studiosi troviamo Fritz Zwicky, che nella sua carriera arrivò a compilare un catalogo di oltre 30.000 stelle e oltre 9.000 ammassi di galassie. Grazie poi allo studio degli ammassi di galassie, lo stesso Zwicky arrivò poi a postulare la presenza della Dunkel Materie, cioè, letteralmente, una materia mancante che potesse permettere all'ammasso di stare assieme. Perché? Lui aveva notato che la velocità con cui si muovevano le galassie, con cui vedeva muoversi le galassie, era sinonimo di una forza gravitazionale molto superiore a quella che tutte le galassie, tutte le galassie, tutti gli oggetti che facessero luce, potessero fare e che lui aveva contato dentro l'ammasso. Quindi, se lui, se la forza gravitazionale è esercitata dagli oggetti presenti all'interno del cluster e gli oggetti presenti, io li conto, che sono quelli che fanno luce, perché si muovono molto più velocemente? Ma non una, due volte più veloci, si muovono 20-50 volte più veloci. Quindi ci deve essere qualcosa che permetta all'ammasso di esercitare una tale forza gravitazionale. C'è bisogno di una massa aggiuntiva, qualcosa che ci sia in quantità maggiore, che quindi muova, eserciti una forza gravitazionale maggiore che muova tutte le galassie. Il problema qual è? Che questa forza gravitazionale, questa materia che esercita, una forza gravitazionale, è una materia misteriosa, qualcosa che non si osserva, qualcosa che manca, che non emette luce. E questa Dunkel Materie, nel 1910, 1937, è il primo germoglio della nascita della materia oscura. Ma questa è un'altra storia. Come oggi, invece, io ho voglia di parlarvi di gas. E quindi, visto che siamo qui e vogliamo parlare di gas, nei cluster di galassie, osservati nell'ottico, nella luce visibile, non so, mettiamo con Hubble il telescopio spaziale, possiamo metterci lì a contare le galassie. Quindi noi vedremo, come abbiamo detto prima, soltanto un 3% di tutto questo cluster. Per avere un'idea di quanto può essere grande, invece, si va ad osservare nei raggi X e nella banda radio. Questo perché quello che si vede è il gas caldo che permia il cluster, quindi almeno un 25%. Poi la materia oscura non la riusciamo a vedere, di conseguenza ci limitiamo a quello che possiamo vedere, almeno per adesso. Poi si osserva che anche al centro di questo cluster si trova una gigantesca galassia. Allora, facciamo una piccola parentesi. Questa galassia è chiamata BCG, Bright Central Galaxy, ovvero, sempre per il nostro piccolo prendere in giro gli astronomi e i loro nomi, questo acronimo vuol dire, in astrofisica, galassia centrale luminosa. E ok, facciamo una piccola pausa, ci riprendiamo da questo e andiamo avanti comunque. Questa gigantesca galassia è governata di solito da un buco nero centrale, supermassiccio. Sì, qui non stiamo parlando di un buco nero con le dimensioni poco superiori al nostro Sole. No, qua è un buco nero con le dimensioni superiori al nostro sistema solare, con masse di qualche miliardo di volte quelle del nostro Sole. E per osservare il gas si usa, come abbiamo detto, la luce e in particolare per gas ad alte temperature si va a vedere nei raggi X. Da una parte facendo delle immagini per vedere come è distribuito il gas all'interno del cluster e la sua densità, in modo da non andare alla cieca, mentre poi dall'altro lato si fanno degli spettri, ovvero si va a sezionare la luce, guardando l'intensità della luce a diverse lunghezze d'onda, per andare a vedere la composizione chimica dalla quale si ricava poi la temperatura. E tutto questo appunto, concentrando, si è visto come nel 1984 si è visto, anzi Fabian, si accorge di un fenomeno che lascia un po' tutti sbalortiti, quegli astronomi, ovvero il cluster mostrano un picco di emissione molto forte nei raggi X nel centro e quindi comincia a chiamarli CC, ovvero Cool Core, cuore freddo. Scrive che parte, che pare, che la gravità agisca come un agente di focus, spingendo il gas a raffreddarsi, comprimendolo nel centro. Quindi il cluster con un picco di densità centrale proprio sulla galassia centrale va a spingere il gas raffreddandosi, comprimendolo sempre più nelle zone centrali. Quindi il cluster con un picco di densità centrale è una temperatura del gas minore, questo però almeno in apparenza. Questo processo però non è stabile, anzi in realtà è abbastanza caotico, dando vita a filamenti di gas che conducono al centro. Quindi la galassia centrale c'è da immaginarsela come una specie di ragno che con le zampette si diravano dal centro verso l'esterno. Ecco, le zampe sono i filamenti di gas freddo che stanno cadendo verso il centro del cluster. Questo processo, insolito, un pochino, che trova Fabian, un po' per caso, un po' per genio, è quello che lui chiama cooling flow, o letteralmente flusso di raffreddamento, cioè il gas caldo che permea tutto il cluster e che si convoglia nel centro dell'ammasso e comincia a raffreddare molto velocemente. Questo addensamento porta poi il gas a raggrumarsi a formare stelle. E così, o almeno questo è quello che si pensa, e così dovrebbe appunto accadere con tutto questo gas che si sta concentrando nella galassia centrale. E dai primi calcoli di Fabian gli uscivano che circa 400 masse solari all'anno si dovrebbero andare a formare. Quindi sì, in effetti, non bruscolini proprio. Andando poi a spulciare in letteratura, si osserva che lo stesso Fabian, a circa vent'anni di distanza da quel primo paper dove diceva che, aumentando le osservazioni e i metodi di osservazione, si accorge di come dai telescopi X, lanciati nel 99 e 2000, così come in altre energie nell'ottico, nelle onde radio, non mostrano alcuna evidenza del raffreddamento così importante, ma anzi mostrano dei buchi dove io mi aspetterei di vedere del gas. Insomma, mostrano come il centro del cluster sia effettivamente un ambiente estremamente complesso. E il cool core di prima ora sembra essere sparito. Gli astronomi quindi sono riusciti però di fare necessità virtù e usando la luce in tutte le sue sfaccettature, sono riusciti a ottenere degli stratagemmi per studiare gli ammassi di galassie e in particolare al centro. Si sono detti ok, 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 piano, piano, piano. Niente panico. Abbiamo una quantità gigantesca di radiazione nei raggi X, quindi energia emessa. E tutta questa radiazione dovrebbe essere emessa in un tempo di qualche miliato di anni. E si vede che confrontata con l'età dei cluster, effettivamente questi rilasci di energia sono molto importanti per l'ecosistema cluster. Insomma, si vede come queste perdite di energia e quindi gas che si raffredda debbano coincidere con la zona più centrale del cluster, di circa un decimo del volume totale. Se, e dico se, le perdite di energia radiative, quindi quelle emesse nei raggi X, sono particolarmente importanti, allora il gas non può stare in equilibrio, ma si deve muovere. Non è che può soltanto raffreddare. Quindi si deve scontrare, deve perdere l'energia, raffreddandosi e quindi andare a creare un cooling flow, un flow di raffreddamento verso queste zone centrali dove ci si aspetta temperatura minore. Però, questo qua è il problema che è un pochino degli astronomi. Ce lo si aspetta? Quindi ci si mette lì, formule alla mano e si comincia a fare delle previsioni e simulazioni, anche simulazioni al computer, e proprio si lascia partire e fai oh, adesso vediamo cosa succede. Primo passo, cominciamo a fare un pochino di ipotesi per metterci un po' l'anima in pace, per capire come funzionano questi cluster di galassie. Mettiamo che il gas sia in equilibrio. Partiamo da una situazione semplice, come la nostra atmosfera. Attirata dalla Terra, la circonda da ogni parte, però è in un equilibrio. Ecco, se prendiamo il gas del cluster e così lo consideriamo caldo, quindi una sorta di bolla di gas caldo, la maniera migliore che ha per raffreddarsi è emettere radiazione. Tutte le particelle che si stanno muovendo, agitate dalla loro stessa energia, cominciano a rilasciare fotoni che poi sarebbero i nostri raggi X. Così facendo però il gas tende a comprimersi, a ridurre il suo volume e a concentrarsi nel centro. Però, se si concentra in un punto, si scalda, perché la pressione comincia dall'altro lato a spingere. Cioè, se tu a un certo punto ti cominci a concentrare tutto in un punto, la pressione del gas comincia a un certo punto e dici, oh, no, no, stai anche te calmo, e comincia a spingere dalla parte opposta. Quindi facciamo un po' dei conti. Sapendo queste cose qua, ci mettiamo lì sulla base dei raggi X, vediamo se mettendo queste condizioni iniziali, i raggi, cioè i dati che noi vediamo, tornano. Fatto questi conti, benissimo, andiamo a vedere con i dati. Tornano, guardano i dati per la prima volta e si accorgono che assolutamente no, non torna nulla. Quindi si fa un piccolo pianto riparatore nella tromba delle scale e poi si torna al PC sbuffando di dover fare un altro calcolo. Per studiare il gas adesso poi si mettono lì con camera e dicono, ok, la prima volta io ho fatto 2 più 2 sperando che mi desse 5 e non ha funzionato. La seconda volta per studiare il gas bisogna partire dal fatto che bisogna considerarlo come un fluido. E io ho ancora il terrore di tutte quelle formule di fluidodinamica che dopo paginate di dimostrazioni e formule si arriva a dire, ok, sì, il nostro gas lo possiamo considerare come un fluido, che può sembrare una banalità. Però così facendo ci apriamo la scala da diverse approssimazioni per capire come raffredda e se raffredda. E questo ci piace molto. Quindi partiamo con calma, capiamo se quello che abbiamo dentro il cluster è o no un fluido. Facciamo un esempio. Consideriamo la strada che può percorrere una particella del nostro gas e questo cammino, se questo cammino è più piccolo del nostro cluster, vuol dire che si hanno interazioni con particelle, con altra materia all'interno del nostro cluster. La particella fa un cammino più breve e quindi a un certo punto si scontra, si muove tipo a zigzag all'interno del nostro cluster. Si scontrano, di conseguenza perdono energia rilasciando fotoni e che, tac, noi guarda, osserviamo ed eccoci i raggi X. Come avviene con le particelle d'acqua un po' quando le versate, cioè le versate nella pentola, quello che sta avvenendo è un moto turbolento di particelle che si scontrano, scivolano l'uno sull'altro, condividono l'energia, si scambiano informazioni o, se volete, un comportamento tipo fluido. Oddio, in realtà per il gas si dovrebbe anche considerare il campo magnetico che va a deviare le particelle del nostro gas in treccia con le linee di campo. Insomma, un casino che noi bellamente trascureremo per vivere suoni tranquilli. Diciamo che il nostro campo magnetico in astronomia è ancora magia nera, nel senso, la carta jolly non si sa molto bene cosa possa succedere, ma se le cose non funzionano si dice, ah ma sì, ma c'è ovviamente, mi sono dimenticato di inserire il campo magnetico e quindi vai bellamente a modificare i risultati, cambi tipo la virgola decimale o aggiungi degli zeri. Dall'altra parte però possiamo anche avere oggetti come ad esempio le particelle di luce. E qui il discorso cambia perché attraversano tutto il cluster, cioè il cammino che fanno queste particelle è a bassissima probabilità di interagire con il gas e quindi vedono il cluster come otticamente sottile, cioè la luce una volta che parte attraversa tutto il cluster senza alcun problema. E in questo caso non si considera un comportamento tipo fluido. Benissimo, fatte queste considerazioni sul gas del cluster e visto che è un fluido, gli astronomi si accorgono che se fosse in equilibrio e tutto alla stessa temperatura, allora sì, dovrebbe raffreddare in maniera importante, fluendo verso il centro e quindi tornerebbe a quel valore che si è osservato prima. Evidenze di questo cooling flow sono state trovate ad esempio nel cluster di Abel 478, ottenute con i dati del satellite Rosat, che è un satellite tedesco molto carino, destinato alle osservazioni dei raggi X con rilevazione anche di particelle di neutroni, insomma, ma vabbè ok ho capito, non è la serie per parlare dei telescopi raggi X, insomma, basta, 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 basta. Però tutti questi dati mostrano come ci sia un calo non troppo importante della temperatura, ma comunque presente e invece una crescita molto elevata della densità. Insomma, si vede che c'è più gas, però come la temperatura sembra effettivamente non calare, c'è qualcosa che non c'è, sembra tipo un bug, questa cosa che dici, mi sembra di raccontarvi qualcosa che non ha senso. Quindi quello che si comincia a pensare è che il gas in realtà devia, cade lentamente verso il centro, portando come nel cluster di Abel a una forte luminosità X, che quindi si osserva, mantenendo però sempre un equilibrio idrostatico. Quindi non c'è quella deviazione, il fatto che il gas si raffredda lentamente e fluisce, no, è sempre in una sorta di equilibrio. Nel caso di Abel, la massa di gas che dovrebbe raffreddare corrisponderebbe a circa 800 masse solari all'anno e su un periodo di decine di miliardi di anni, come sono l'età dei cluster di galassie, può contribuire in maniera importante alla massa totale centrale del cluster e anche la luminosità. Ci si dovrebbe vedere un picco a un certo punto. Cioè, se si formano così tante stelle effettivamente ce le dovremmo aspettare di vedere. Però quello che si osserva in realtà nei cluster CC, full core, è un raffreddamento minore. Lo stesso cluster di Abel, una volta che si va a fare spettroscopia, che si va a vedere effettivamente quanto si sta raffreddando, mostra un valore di circa 100-300 masse solari all'anno. Cioè, voi vi aspettate 10 uova, vi arriva una ghianda. Questa discrepanza tra teoria le simulazioni, perché noi nelle simulazioni mettiamo la fisica che conosciamo, vediamo quello che vediamo e cerchiamo di risalire alla causa. Comincia, appunto, questa discrepanza comincia a mietere le prime vittime tra i fisici e gli astrofisici. Proprio ci comincia ad essere una mattanza. Molti che si accasciano davanti al computer non si rialzano mai più. Il problema è che la spettroscopia X, nei cuori degli ammassi, ha mostrato un'assenza di gas che sta raffreddando, che invece sarebbe atteso se non ci fossero altre forme di energia, se non ci fosse qualcosa che stia riscaldando. Di conseguenza, qual è il trucco? Dove sta l'inganno? Dov'è il gas? Ci deve essere un meccanismo che riscaldi il gas nel cuore dei cluster. Ovviamente il problema, e gli astrofisici si sono divertiti su questo, è che c'è un problema e tu trovi oltre 100 modelli teorici per spiegare i motivi di questo riscaldamento. Come nei più grandi gialli di investigazione, la pistola però fumante manca, il ladro, l'assassino, o se vogliamo in questo caso colui che ci accende la stufa nel cuore delle galassie, scappa, sfugge agli occhi vigili delle scienziate, degli astronomi, che in questo caso chiameremo Jessica Fletcher. Quindi il tipo di riscaldamento che vanno a cercare le nostre signori in giallo deve essere estremamente preciso. Non deve andare a distruggere il nucleo, perché è un nucleo freddo del cluster e quindi deve essere un riscaldamento gentile, se vogliamo dirla così. Però deve essere anche persistente, deve distribuire l'energia su un ampio volume, su tutto il cluster. Insomma, state già cominciando a capire che è un casino. Ah sì, e tutto questo deve essere osservabile. Noi poi lo dobbiamo confrontare con i dati. Abbiamo bisogno di capire, proprio c'è come stiliano un pochino, alcuni astronomi stanno impazzendo, c'è un problema un pochino grave. Ora però bisogna trovare il calore, del calore, dell'energia. E qua appunto si sono un pochino divertiti, ci sono diversi fenomeni che possono fornire questo calore. Vediamoli un attimo. Si è pensato di trovare la soluzione nelle supernove. In effetti le esplosioni delle stelle portano calore ed energia che riscalda il gas. Ma a conti fatti, soprattutto con le simulazioni delle equazioni lunghe sei libri e con i dati che abbiamo attualmente, sembra che le supernove non riescano ad essere così importanti. Sono un qualche per cento, ma non la parte più importante del riscaldamento. Il problema principale sta nel fatto che parliamo di forzare le supernove. Quello che vorremmo è che esplodessero tutte assieme, il che è un po' come truccare le carte. Diciamo che il tutto risulta forzato. E che possa accadere solo in casi particolari, non nel caso più generale possibile. Quindi gli astronomi cominciano a fare già una faccia un pochino schifata quando gli proponete che potrebbero essere supernove. No, guarda ragazzi, ci siamo già passati. Un'altra alternativa invece potrebbe essere la conduzione termica. Il gas freddo a temperature più basse si scontra con quello più caldo, si thermalizzano e arrivano a una temperatura comune. Bello! Il problema è che qui la conduzione termica non sembra possibile, ma anzi, se avviene, è efficiente solo per un qualche per cento, perché abbiamo gas a diversa densità. La conduzione termica funziona bene con shock e gas ad alta densità, perché ci servono tante particelle che si scontrino le une con le altre per poi arrivare a una temperatura comune. Mentre se da una parte abbiamo gas a bassa densità, come il gas caldo e poco anche nella periferia, il fatto che si scontri soltanto una particella ogni milione, porta a questo trasferimento di energia molto lentamente, anzi molto poco efficiente. Quindi se ci fossero degli shock, allora il problema diventerebbe da dove si formano questi shock, se c'è poco gas, insomma si fa un po' fatica. Anche qui più domande che risposte, insomma non proprio la strada ideale. Si potrebbe pensare anche a scontri tra galassie. E sì, qui ci sono anche questi, cioè effettivamente a livello di energia due cluster che si scontrano gli uni con gli altri permettono di rilasciare energie a livello di quello che vogliamo. Quindi il problema come ordine di grandezza ci siamo. Il problema qual è? Che anche qui non possiamo fare sempre solo affidamento sugli scontri. Ci stiamo già nascondendo dietro un dito. Gli scontri ci possono essere, ma dovrebbero, dovremmo avere prove di questo. Ma soprattutto è il tempo. Come in amore il tempo è bastardo. E qui se vediamo gli effetti che vanno avanti per miliardi di anni, difficilmente li possiamo, possiamo dare la colpa a un incontro sporadico tra due classi di galassie. Anche se ammetto che sarebbe molto poetico. Come diceva il mio ex-prof, cioè è ancora vivo e non è che è soltanto che non è il più il mio prof, no? Non lo so, si dice ex-prof. Vabbè, il mio prof di Ammasse di Galassie, colui che mi ha insegnato questa materia, il punto debole di questo modello era che è un buon modello teorico, che però può sempre nascondere la presenza di gas freddo. Si ipotizzano condizioni ad hoc e il gioco è fatto. Voi siete a monte, nascondete alcune prove e permettete al nostro torrentino che poi diventa fiume di arrivare a valle tranquillo e serenamente. Mentre sarebbe molto più utile indagare sull'attuale raffreddamento che è nato nei cluster e da quello risalire le clause, quindi partire da valle e arrivare a monte. E si può fare con gli attuali telescopi, quindi adesso ne abbiamo le capacità. Quello che vediamo è il fatto che ci manca molto raffreddamento, quindi abbiamo un decimo di quello atteso. Tutte queste proposte di soluzioni che abbiamo detto prima sono poco probabili o non sono che una piccola percentuale di quello che è il riscaldamento necessario. Insomma, insomma, si sono detti troppi problemi anche per i più testati degli astronomi che si sono detti. Allora, senti, senti, smantelliamo tutto, rifacciamo, stiamo cercando e continuiamo a cercare nella zona sbagliata, costruiamo un nuovo modello. E in pratica, o ora, partiamo dalle osservazioni, però le guardiamo meglio. Una proposta che sembra promettente, anche se tuttora non ha convinto tutta la comunità astronomica, deriva da osservazioni di quelle zone centrali in cui si dovrebbe trovare il buco nero centrale e la galassia centrale. Ci sono alcuni risultati suggestivi effettuati proprio dal telescopio per i raggi X Chandra, che sono un po' impressionanti, perché si osserva il gas perturbato, smosso, che crea come delle bolle nelle bolle, che va a creare delle cavità dei buchi, viene spostato ed è come se stesse bollendo, con queste bolle che corrispondono quasi a sovrapporsi con le osservazioni radio, quindi osservazioni X e osservazioni radio, che mi danno più o meno lo stesso quadro, cioè le osservazioni che si vanno a sovrapporre. Quindi questo qua, primo, primo punto, si è trovato già un indizio. Si è trovato poi con alcune simulazioni di gas che è andato incontro a una catastrofe di raffreddamento nelle zone più centrali, più oscure dell'ammasso, cui fino a qualche anno fa non avevamo accesso, non avevamo la risoluzione per andare lì. È come se piano piano, appunto, stessimo andando verso una matriosca di gas a diverse temperature, a diverse densità, un gas che si chiama multifase perché parte da temperature di milioni di gradi e arriva invece a qualche centinaio di gradi, verso il centro. Per esempio, nelle regioni centrali del cluster di Perseo, un altro cluster di galassie gigantesche, si osservano cavità che stanno spostando il gas. Questo porta a shock a onde di gas con differenti temperature e densità, come conseguenza di gas che si sta scontrando nel centro dei cluster e che sembra provenire da quel centro scuro dei cluster e ancora più piccolo dal buco nero, come se stesse proprio bollendo qualcosa che è in costante movimento. Tutto questo va a creare un disco di accrescimento intorno al buco nero supermassiccio. Quindi abbiamo gas che parte da altissime temperature, estremamente rarefatto, che poi invece nella parte più centrale, nella parte più oscura, si riconduce a un disco di accrescimento che piano piano il buco nero lo dovrebbe andare a mangiare. Fin qui, tutto hoc, però il buco nero mangia, non sputa materiale. Dov'è? Dov'è? Dov'è il riscaldamento? Dov'è la nostra cenerentola? Però gli astronomi hanno detto, aspetta un attimo, non hanno mollato la presa e forse appunto una cenerentola, un nuovo paradigma, l'hanno trovato. Questo paradigma, chiamato AGN feedback, o meccanismo di risposta dell'AGN, che poi sarebbe la risposta della galassia centrale, come quello di prima, comincia dagli stessi argomenti, ma propone una diversa fine. Anzi, non proprio una fine. Quindi il gas comincia a raffreddare. Il raffreddamento prosegue nelle regioni centrali corrispondenti alla galassia centrale. Si genera un gas che non è come prima tutto freddo, tutto caldo, ma con diverse fasi, come siamo abituati noi, con un certo gradiente, una certa crescita graduale di temperatura dall'interno all'esterno. E in questo gas, nelle zone più fredde, si formano nuove stelle. Il gas che sta cadendo verso il centro va ad accrescere, a rendere più grande il buco nero. Però parte di esso emette fotoni ed energia che influiscono sul gas che non è caduto e lo va a scaldare, creando dei getti di materia che si dipanano dal buco nero, andando a creare quello che viene chiamato un accrescimento caotico freddo. Cioè, adesso ci fermiamo un attimo anche perché vi rendete conto gli astronomi riescono a creare da un lato galassia centrale brillante, dall'altro invece nomi senza senso sparando proprio nella parte poetica come nome accrescimento caotico freddo. Cioè, bellissimo. Il buco nero, o ora, una volta che ha creato i getti, i getti di materia, crea quindi un effetto di feedback, una reazione a posteriori che va a bloccare il riscaldamento perché il buco nero si spegne, perché non c'è più gas che cade in caduta libera su di esso, visto che l'ha spazzato via tutto prima. E quindi comincia un processo di autorregolamento. E dopo un po', visto che non c'è più gas attorno, visto che non c'è più il riscaldamento attorno, quindi il gas che è stato tutto spazzato via, ora il gas può tornare a cadere. E quindi il ciclo ricomincia. Il problema per cui c'è ancora molta discussione è che il nucleo della galassia centrale e soprattutto le interazioni dei buchi neri sono ancora poco capiti. Anche qui sembra effettivamente di fare riferimento a qualcosa che è difficilmente verificabile, come il fatto che ci siano dei cicli di attivazione e di spegnimento dei buchi neri. Il fatto poi che abbiamo un mezzo multifase con varie temperature e quindi ambienti diversi, con interazioni diverse a livello fisico, destabilizza molto i fisici. Questa un pochino vattura. Perché portano a conseguenze a calcoli molto più complessi. Dobbiamo giustificare tutto e quindi c'è bisogno di andare con cautela. Il riscaldamento però, da parte degli AGN, è la spiegazione più popolare negli ultimi tempi, poiché essi emettono molta energia nel corso della loro vita, mentre alcune delle alternative dette prima no. Sono one shot una volta sola, mentre l'AGN dall'altra parte sembra proprio di no. Il più probabile, come ho detto, sembra essere tutto il complesso che circonda il buco nero, super massiccio all'ammasso, che genera getti che invadono il gas del cluster, generano shock e che scaldano il gas e spostano, accelerano e creano delle cavità osservabili nell'X. Però tutto quello che riguarda l'accrescimento del buco nero, la generazione di cavità, la formazione di cavità e la frazione di energia e che cosa fanno queste bolle provenienti dai jet è tuttora chiuso dentro un grande gigantesco boh. I buchi neri, situati in galassie di grande dimensione, al centro di ammassi di galassie, possono pompare grosse quantità di gas, di energia, in forma di potenti getti di particelle cariche elettronicamente, nel brodo di gas che circonda queste zone centrali dando origine alle cavità. Cavità nella miscela di gas che sono all'origine dei fenomeni di turbolenza in modo caotico rilevati nei raggi X, come ad esempio Chandra e quelli che si sono osservati. Però i modi caotici e turbolenti sono qualcosa di estremamente difficile da simulare e da capire, soprattutto in situazioni di questo tipo, dove i dati osservativi continuano ad arrivare, ma parziali, e la teoria non è ancora certa. Però però sembra che l'energia liberata da queste cavità corrisponda su un range abbastanza ampio a quelle del gas. Di conseguenza è eureka, quindi ci siamo? Sì, ma non sappiamo perché. E ora vado a piangere nel bagno, perché sono passati tipo 40 minuti e dopo che vi ho raccontato tutto questo, sì, sappiamo più o meno come funziona, però non sappiamo il perché. Però come molto spesso succede, scoprire un problema ci apre la porta a molti altri. Siamo ignoranti su moltissimi aspetti, soprattutto su queste cavità che fluttuano nel gas più freddo. Come interagiscono e come si mescalano rimane ancora un mistero. Affrontano, affondano, vanno in giro. Come si muovono queste bolle di gas? L'idea è che muovendosi dentro il cluster queste bolle lo vadano piano piano a scaldare attraverso deboli shock continui dovuti proprio al loro movimento e quindi il riscaldamento delicato che si cerca. Però da una parte possono portare anche diverso gas a fuggire dal centro del cluster spingendolo verso l'esterno e quindi privando il cluster del riscaldamento di cui avrebbe bisogno. Di conseguenza vedete che anche qui è estremamente delicato, bisogna capirlo molto bene. Non so, forse non mi interessa questa parte dei cluster di galassie, però mi ricordo la passione con cui il prof ci parlava di questo problema e di questo campo ancora apertissimo in cui le approssimazioni sono fatte con l'accetta e lo scontro con il non sapere è gigantesco. Sono veramente astronomi che si stanno aprendo la strada con il macete cercando di arrivare verso la città d'oro. Le ricerche vanno avanti e mi sembra questo è uno di quei problemi che effettivamente si sa poco e capisco il motivo. Per spiegarlo ci ho perso diverse settimane e anche voi avete visto come è effettivamente complesso e difficile. Ma credo sia anche il bello dell'astronomia. Ci sono problemi difficili perché quelli facili un pochino ci annoiano. Non siamo qua soltanto per questo. Bene, io ora vi saluto così nell'incertezza di quello che sappiamo e nella certezza invece di quello che non sappiamo. Spero che questa puntata non vi abbia annoiato e io mi sono divertito abbastanza. È stato un bel giro riuscivo a provare a spiegare tutto questo cooling flow e ditemi cosa ne pensate nella puntata. Vi invito sempre a condividerla, a lasciare un like e noi ci vediamo invece lunedì prossimo con un nuovo episodio. Direi sia quello prima, prima di Natale. Poi c'è lo speciale di Natale. Bene, io vi saluto. Ciao! Ciao!